La sicurezza sulla strada è fondamentale, segnaletica orizzontale verticale, luci lampeggianti, limiti da rispettare e guardrail. Barriere di protezione posizionate dove il rischio di sbandamento può essere maggiore, come in curva, o dove andare fuori strada potrebbe essere pericoloso, ma il guardrail, che in fase di progettazione viene sottoposto a crash test, deve essere adeguato al tratto di strada su cui viene posizionato, relativamente al tipo di traffico che quel tratto sostiene, oltre che dalla velocità consentita. Strade su cui la velocità consentita sarà più alta avranno guardrail con maggiore classe di prestazione, maggiore sarà la percentuale di mezzi pesanti rispetto al traffico, maggiore dovrà essere il livello di contenimento e quindi nuovamente la classe di prestazione, questo da Wikipedia. Sembra essere eccessivo il guardrail che si trova sulla rotonda di accesso al Clodì, alto per tutta la lunghezza, incluso il tratto in cui si mette lo svincolo della Romea proveniente da sud. Chi giunge da questa direzione non vede i veicoli sopraggiungere, non i più bassi. Concordiamo sul fatto che chi si mette in rotonda dovrebbe fermarsi allo stop, ma non sempre è così e talvolta un fischio di freni indica che qualcuno si è esporto troppo prima di fermarsi. Sappiamo che in altri tratti di strada è stata rivista l'altezza del guardrail che in questo caso ostacola la vista. Forse sarebbe da rivalutare anche in questo tratto la tipologia di guardrail necessaria per una completa sicurezza per chi guida. Qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini che è un tipico piatto italiano e del prezzemolo che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.